un'attività molto insolita nell'animus la cpu dovrebbe essere inattiva ma il sistema mostra dei picchi irregolari a volte con un'altezza dell'85 per cento è grave non saprei i segnali di desmond sono stabili bene se non ci sono problemi evitiamo di intervenire d'accordo di ho bisogno di bere piscati in bocca il mio saluto di questo nuovo video non poteva che essere così di nuovo fuori io non non credo che succederà mi dispiace no eh la mia occasione l'ho già avuta l'ho sprecata fra desmond e lucy c'era una simpatia qualcosa di più che un'amicizia oh beh sì c'è stato qualche sguardo languido tra loro ma lui le piaceva bill me l'ha detto lei ah claudia costantinopoli che i turchi chiamano istambul mi ha accolto come uno dei suoi figli gli assassini di qui guidati da un affabile guerriero di nome yusuf sono assai fieri della loro città il luogo più vario e colorito che si possa immaginare ma è anche una città travagliata una fazione ribelle di templari bizantini lotta ancora per mantenere il potere i loro recenti attacchi hanno ritardato la mia ricerca delle chiavi di masiaf ma non durerà non appena ne sarò in grado vedrò di trovare la vecchia stazione commerciale dei polo cercando indizi che mi avvicinino alle chiavi e risorgiamo nella sequenza 3 oggetti smarriti right in istanbul come c'è andata meglio che il nemico abbiamo ripreso il copo abbiamo perso molti amici in questo scontro quanti morti per una piccola conquista tu hai una certa esperienza nell'arruolare nuovi assassini ah ah gli adepti più che discreta la gente di qui è stufa di questi attacchi dei templari perché non fai ricorso al tuo fascino e ci trovi delle nuove recube sì ma in questo covo non è il caso di addestrarle non così presto mi sembra giusto parla con uno dei miei uomini a galata quando hai finito può aiutarti ad addestrarle ok e una cosa per volta qua c'è un rifugio templare anzi tomba segreta il ricordo dov'è? qua eh bel viaggetto vai ovviamente che succede? succede che inizia da adesso l'essere ricercati cosa che abbiamo combattuto un casino ad Assassin's Creed S2 che Brotherhood penso che questa cosa finisca con Assassin's Creed 3 forse sicuramente i manifesti sono finiti se non con Brotherhood finiscono qui ma non ci saranno più altre storie di manifesti adesso vediamo cosa vuole dirci qual porto e poi vedremo siete un uomo compassionevole Fendi potete aiutarmi? non nego di aver rubato della frutta da un mercante ma solo perché la fame ha avuto la meglio sulla mia onestà portatemi la chiave di queste catene e vi ripagherò dieci volte tanto borseggia la guardia per recuperare la chiave ok easy per forza trova la guardia che ha la chiave ok qua non c'è aree vietate vero? perdonatemi me ne vado loro non sono zitto qua mi dà il percorso però dei nemici cosa che apparentemente sembra strano ma non mi serve non mi serve il percorso delle guardie mi serve il percorso del nemico del bersaglio sulla barca non può essere pensate che si può ancora correre con l'occhio dell'aquila adesso tra qualche assa se scrive non potremo più a posto via non ho fatto niente no non venite a cercare me che non ho fatto nulla un Ezio che può notare con tutto quello che abbiamo bestemmiato ad Assassin's Creed 1 fa molto strano ed è anche molto piacevole però perché quell'uccisione di Sibrand è stata veramente da sbrocco totale voi mi umiliate Effendi ripagherò il mercante che ho derubato e gli mostrerò la stessa gentilità non lo fare ho ripulito la coscienza amico unisciti alla nostra causa per essere un onesto uomo bisogna avere un lavoro onesto ne sarei onorato grazie ok il prigioniero è andata prima missione della sequenza 3 ok Grazie a tutti.